Cari fratelli e sorelle, Nei nostri cuori è vivo il dolore per la strage che la sera di giovedì scorso a Nizza ha falciato tante vite innocenti, persino tanti bambini. Sono vicino ad ogni famiglia e all'intera nazione francese in lutto. Dio, Padre buono, accolga tutte le vittime nella sua pace, Sostenga i feriti e i conforti familiari. Egli disperta ogni progetto di terrore e di morte, perché nessun uomo ossi più versare il sangue del fratello. Un abbraccio paterno e fraterno a tutti gli abitanti di Nizza e a tutta la nazione francese. Grazie. 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 Grazie.